Siete gli unici 4-0, è possibile. E non siete andati contro. E' possibile questo riscontro? No, non lo so. Mi ha ottenuto sempre il tuo video. Stai mai? Mi? Dado, c'è il telefono carico. Quanto ce l'hai? Facciamo gara di me. Il mio è proprio spento. Ho usato la calcolatrice. Ho usato la calcolatrice. Ho usato la calcolatrice. 5-6. Io. Sarai fatto? No, non lo so. Un tempo. Stai mai, mi fa. Sì, sì. Baccia! Uh! Sì. Allora, ti avresti un buonissimo effetto. Non male. Cioè i vices proxatini, no? Ti avviso controllo? Controllo proxatini. Effetto? Della mano di cuore. L'unica effetto. C'è questo su unico. Allora, questo chi sarà? Questo qua che significa? Lui è Prisma che per effetto manda un materiale, cioè rivela e diventa vices. Quindi lui chiede anche vices e lo fate. Farei pianeta. E special. Grazie. Per esempio fa da omni ma penso guardo un po' un po' un po' un po' un po' Quindi faccio uno, due, parli quattro da mazza, parli due, anche due, riparto normalmente l'unico. Ok. Due volte ho fatto per agonare. Farei effetto brushy. Siamo liberati. E qui, è unaueda musica. Buone mer. 3, conosco, 0 3, conosco, 0 Ok, perché si è risolto. E andrai in enda. Per andare? Sì. Per andare? Sì. Cosa fanno un gioco? Questa, la prima volta che prendo danni da battaglia o da effetti di carta e non li prendo, posso scartare una carta per ricarmi pure lì da mazza. Lo scart è di costo. Fare Yash. E poi ce ne ho anche attivazione di splash per dopo, perché deve essere scoperta. 30 memory, questa entrambi guadagniamo 1000 e posso scartare una carta per ricarmi pure lì da mazza. Questa, posso guardare 500 life points per farti vedere. Tre carte pure lì da mazza e tu randomicamente quando devi mettere un gioco. Ok, me ne fai vedere tra uguali. Ok. Sì, ce n'erei il primo. Lui, la sua protezione è dal cibi? La sua protezione? No, no. Quella che dicevi prima. No, no. I danni da combattimento o da effetti di carta. Per il resto di questo turno? Per il resto di questo turno. Per il resto di questo turno. La prima volta. Ah, sì 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 sì. In due? La bollusa da... Se c'hai un dado, posso rubarti il dado? Sì sì. Grazie. Ho fatto il possibile. Devo comprare un cazzo di dado. Sì, sono un gioco. No, 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 è proprio bene. Se fai un dado, non è proprio bene. Non ho l'unardo, però... Posso riflesso? Non sei risotto? Tenai? On tesi. Stem bai? La scuola? Sa scuola. Non si fa. Non ho fatto il tuo due. a quanto è che ha 3.200? la mia sbompa no, solo sui 3 attacco per 1.000 e 2.000 3.000 2.000 per 16 lui dopo mi ritorna, no? mi ritorna qui esatto effetto parlo 5.100 penso che l'ho fatto per il fatto di mascarina non puoi servire e non puoi servire è distruttibile poi ci sono i struttivi dei struttivi del mondo e non puoi servire non puoi servire adesso ho vinto però Allora, l'effetto, questa scava le prime tre, se una magia ha una trappola pure, lì la posso dare. Farei Gama. Penso, sto ragionando sui calcoli, per vedere se riesco a chiudere. Faccio C, non può essere spaccata di parte di parte, una volta per tutto, e poi gli posso fare sempre l'effetto di scartare. Ok. Quindi quella entra, mi nega, però l'effetto. Ok. Prendi tu? No. Ah, ho avuto una parte di mano. Soluzione, fare effetto, quando viene evocato, norma, uno special, possa darmi una magia, o trappola, o un mostro, oppure le magie però non devono essere qui. Ok. Tu mi da qui e... Ah no? Serto? Vai. Eh, lui è un GIF, per essere più gioco. Se non mi sparo, mai. Posso chiederti cosa fa la trappola? La trappola posso targettare un Xyz pubblico controllo, e posso matare all'exca un Xyz, un ritoro, diverso, non superiore. Sì, io voglio fare il Xyz. Io potrò chiederti quel turno, potrò fare il Xyz. Ok. 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 Qui che è questo, giusto? Questo è quello. Ah, solo durante il tuo turno, quello del mostro. Sì, sì. Quello del pescare sì, perché lo fai durante il tempo. Ok. 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 Torpo! Ok, tratta! Torpo! Sì. Tenginzan, Forestry, Head börge. o magari c'è una birra c'è una birra c'è una birra può giocare a due metà, passate vai c'è una birra special vuoi vedere la mia mano? davvero è più quello comunque non è male è il nostro se posso grazie è il nostro mamma mia è il primo avere queste qua in questo modo è bello lo sisma non è male perché non è male normal è giunto? lui sì ok special effetto grazie special su tutte le magie hanno questo aspetto qua però alcune applicano un effetto quando se lo utilizzano come materiale e altre esatto ok puoi andare magia è buona questa asce molto meglio di quella di prima sì l'ho capito adesso che tutte sennò non l'avrei fatto se non l'avrei fatto stacca i materiali lui torna nell'extra e poi può evocare può evocarli non so quanti ne vuoi c'è scritto special summon as many io sono obbligato a evocare in che posto sì quindi posso loro due sessi tutti due insieme solo questo e la continua tutto il resto solo lui e la continua quindi lui no questo non è un altro povero effetto di scavare sì potemi vedere carta di libri giusto? magia magia oltre a per esempio ok e non scavo mai 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 ma no perchè ho fatto lui che gli ha letto sotto ok poi ha altri effetti oltre a quello di pescare due si pompa di 300 e si attacca per ogni materiale per esempio 1.12 e effetto rapido posso attaccare fino al due magia trappola dentro agli cimiteri sui ok quindi non hai interazione di scavare e poi se attivo una magia in chain posso attaccarmi ok e vanno un mostro fino all'entra senza target sul terreno sul terreno della risale ok no no sul terreno del volante di intranco ok senza target ok 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 farei effetto target come se sono in stand by stand by dovrei pescare due siamo giustamente main ok poi farei sempre in stand by effetto di attaccare questa e c'è una trappola ok farei in main farei effetto con target lo speciale è addo da deck a mano il nostro scareclo le carte che conosco per cui fa? la terreno zone limitrofe a scareclo quindi in questo caso posso fare farei special effetto? si mancino troppo la scherza poi pesco uno perchè ci sono 4 indice sul terreno va bene farei terreno effetto per aggiungere vita ok 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 e poi faccio C di attaccare e bannare il nostro scareclo ok lui non può essere destuto in battle giusto? solo in battle solo in battle le banno fino all'hand face e io la terreno l'effetto non l'ho ancora attivato quello per spaccare giusto? no esatto allora farei terreno per spaccare ok 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 in ok 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 Grazie a tutti 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 Ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti